Grazie a Telefriuli, uno studio di Telefriuli al punto, benvenuto a Michele De Sabata, neosindaco di Premariaco, benvenuto Michele. Grazie a voi, grazie dell'invito, di darci la possibilità di fare quattro parole con i nostri cittadini anche perché questo è un metodo anche per parlare con noi. Esatto, allora io ti ringrazio che hai accettato, la tua elezione è stata veramente unica perché mi pare che hai accettato in una situazione veramente difficile, quindi io penso che ti facciano i complimenti anche a tutti i cittadini. Ecco bene, allora qual è la situazione adesso a Premariaco? Lasciamo stare il coronavirus che sappiamo che siete in prima linea e su questo non ci piove. La situazione che hai trovato com'è? Beh, è incredibile già la premessa che tu hai fatto, se lasciamo stare proprio il coronavirus che è uno dei problemi più importanti che abbiamo in questo momento in Italia, in particolar modo anche nella nostra regione. Quindi già questa tua premessa indica che abbiamo qualche problema in più, problemi ovviamente sono legati al fatto che, come ben si sa, abbiamo un'indagine dell'amministratura in corso sul nostro comune, quindi abbiamo alcuni lavori che rimangono ancora in stand-by perché ci sono dei problemi tecnici da risolvere con le varie aziende che lavorano, quindi diciamo che al di là di tutte le problematiche che un sindaco nuovo può avere all'interno di un comune, abbiamo anche questo nuovo sistema di affrontare le cose che per noi è totalmente nuovo che è quello degli avvocati, quello dei tribunali, però alla fine anche con questo è un sistema dove andremo sempre più a migliorare, ormai siamo in mani a un avvocato che ci dà le linee guida del nostro comune per questa prima fase. Diciamo che questo è solamente una parte, diciamo il 20% di quello che è il comune, perché poi il resto funziona, corre, ci sono già tutti i nuovi progetti in arrivo, diciamo che c'è questa prima percentuale di problemi che dovremmo risolverli, ci vorrà del tempo, mi riferisco ai miei cittadini che stanno aspettando e guardandomi, tutti chiedono di questo vento guado, il guado mancano due giorni di lavoro per poi essere terminato, però il buro praticamente andrà forse un po' più per le lunghe. Ecco il personale come è sereno, abbastanza... Il personale è rimasto un po' scottato ovviamente da questa indagine, è una novità, non si sente molto, soprattutto al nord Italia, un'indagine di questo respiro che tocca tutte le persone, ovviamente tutti si sono sentiti un po' presi in causa, però una cosa bisogna dare adito e merito. Abbiamo un comune che ha sempre funzionato fino all'ultimo giorno dell'altra amministrazione e ha ripreso col primo giorno della nostra amministrazione, quindi un plauso va a loro, che al di là di tutto quello che gli è successo, hanno mantenuto la barra dritta, il comune sta bene, non ha debiti se non quelli classici, normali di un comune, quindi il merito va a loro, anche perché siamo sotto organico come tantissimi comuni. Avete problemi anche con il segretario comunale, perché la stragrande maggioranza li ha, però... Ed è un grandissimo problema, un problema che magari è un mio appello che ho già fatto, ovviamente di persona ai referenti regionali, ma è un problema di tutta la regione Fulio Venezia Giulia. Mi risulta che abbiamo 48 segretari in tutta la regione, a fronte di oltre 200 comuni, capite da soli che un segretario comunale è una figura apicale importantissima per un comune, perché è quello che poi dirige tutto quanto. Non averlo porta degli scompensi e dei problemi importanti e soprattutto delle responsabilità. Da qua va il mio grazie a quello che attualmente sta reggendo, che è il vice segretario, che sta facendo un aggreggio lavoro, anche se non viene le sue competenze. Ecco, senti, tu sei stato visto sempre come un uomo di sport, pragmatico, che decide, anche stato opinionista, anche nostro, eccetera. Ecco, quindi con la veste politica, qualcuno ti veste un po', ti sta osservando, no? Ma tu sei anche un politico, hai dimostrato già le tue carte, mi pare. Diciamo che la politica l'ho sempre frequentata grazie allo sport, no? E quindi l'ho frequentata di lato, ho sempre viaggiato parallelamente con i politici, ma mai, non mi sono mai incrociato con loro nei loro ambiti. Magari i politici spesso vengono in ambito sportivo, no? Difficilmente uno sportivo entra in ambito politico. Però magari anche questa amicizia che mi ha accompagnato tantissimi anni con loro, mi ha fatto dire sì, quando questa lista si era proposta di fare questa elezione, di vincere le amministrative. È stata una prova, diciamo, difficile, perché tanti dicono la lista unica sì, però in un momento difficile come questo, e cercare di portare la gente a votare, soprattutto la tua gente, mi pare che, no? L'hai raccontata anche nei nostri studi, è stata una cosa unica. È stata una cosa unica, non vorrei essere superbo, arrogante o ancor peggio, saperla tutta io, però penso che un piccolo libricino di come si fa una lezione, una campagna elettorale, si possano scrivere un paio di pagine su questa nuova lezione di Premariacco. Ovviamente era quasi impossibile al giorno d'oggi portare il 50% della popolazione al voto, sappiamo benissimo che c'è un astensionismo nel nostro comune, ormai va dal 20 al 25%. Per ricordare che il vecchio sindaco, la vecchia amministrazione, si portava a seguito un 35% di voti. La matematica non è un'opinione, significa impossibile raggiungere il 50 più uno. Abbiamo fatto un piccolo capolavoro, capolavoro che è nato il lunedì, quindi il secondo giorno di elezione. Tutto ha giocato a favore, tra virgolette, solo che lunedì diciamo che abbiamo fatto il miracolo e allora, parafrasando il calcio, abbiamo fatto un gol in rovesciata all'ultimo minuto, perché senza gli errori degli avversari non si vinceva e abbiamo approfittato anche dei loro errori. Questo ci ha portato ad amministrare un comune e ne siamo orgogliosi. La politica è anche questa. Ecco, tu hai tenuto i referati di edilizia privata urbanistica e la polizia urbana. Ecco, mi fa capire che qualche idea sul PRG ce l'hai. Sì, nel senso che alcune cose sono classiche che tutti i sindaci hanno, altre invece io le ho anche delegate, perché comunque all'interno di questa squadra è una squadra, secondo me, molto forte. Ne offita per quanto riguarda alcuni componenti in politica, come sono io, però molto bravi e molto tecnici, quindi due vice, ho un vice sindaco, un consigliere in particolare, due consiglieri in particolare che sono molto esperti anche di comuni, quindi ho delle deleghe pesanti, stanno lavorando molto bene, è stata sempre una mia peculiarità in tutti gli aspetti della mia vita, quello di saper delegare. Mi hanno insegnato questo e l'ho sempre praticato anche nelle associazioni, dove ho sempre collaborato. La delega è importantissima, avere fiducia su chi si delega e delegare perché comunque c'è tantissimo lavoro, ripeto, noi poi fra l'altro noi non siamo dei professionisti, quindi noi continuiamo nel nostro lavoro, non siamo politici seduti otto ore al giorno in comune, questo non lo permette neanche, quindi bisogna continuare a lavorare, bisogna essere squadra, perché altrimenti è molto difficile seguire tutti, soprattutto perché è stata una squadra coesa, non mi dicevi un giorno. Molto coesa e ci sono anche perché abbiamo dei problemi importantissimi che si trascinano da qualcuno addirittura da 30 anni, parliamo di discariche, parliamo di grossi... Ecco, le priorità di Pabariaco, a parte la questione, diciamo così, in sé, in questo momento che state vivendo, delle indagini, ma le priorità quali sono? Ce ne sono un paio pesanti, mi pare, no? Diciamo che mi hanno mi hanno insegnato, ancora prima di che partisse questa campagna elettorale, mi hanno insegnato che mi hanno spento subito l'entusiasmo dicendomi, lascia stare che non sarai tuo a risolvere i problemi in cinque anni o in due mandati. Questa mi è rimasta dentro, ho detto ma perché, no? Perché la voglia di fare è molta, è parecchia, però mi stanno ronzando queste parole in testa, come non si può risolvere. La mia più grande missione sarebbe di poter risolvere alcuni grossi problemi, non ultimo la discarica, abbiamo la caserma di Iplis, ci sono dei problemi che si trascinano da moltissimo tempo nel nostro comune. Beh, noi i ferri in acqua li abbiamo già messi, vorremmo portare a termine questo, infatti c'è un assessore che cura solo l'aspetto della discarica perché è un problema importantissimo. Per quanto riguarda il territorio invece nostro abbiamo, insisto, una domanda fatta dalla vecchia amministrazione di un parco fotovoltaico, c'è l'ipotesi di farne pure un altro, sappiamo quanto è importante il verde, l'ecologia e tutte queste cose qua, quindi anche se fa parte del green, fa parte della new economy, un parco fotovoltaico bisogna sempre stare molto attenti dove si fa e come si fa. Quindi ci sono alcuni aspetti importanti da decidere, diciamo che le due grosse linee sono chiudere i vecchi problemi e aprirne nuovi. Abbiamo una scuola nuovissima, abbiamo altrettanto una scuola molto vecchia che sarà soggetto di ristrutturazione, c'è già un primo aiuto che arriva sulla progettazione, stanno arrivando 300 mila euro di contributo solo per una progettazione, quindi se questa progettazione poi potete immaginarvi quanto potrà costare con il nuovo municipio, la nuova scuola. Quindi gli investimenti ci sono già. Ecco, invece volevo chiederti, la situazione che riguarda un po' questo nuovo DPCM, perché insomma parliamo anche dell'attualità, dove in qualche modo alle 18 è stato chiuso un po' tutto, perché chiedendo bar, ristoranti, non penso che Orsaria dalle tue parti, limo via, ce ne siano, eccetera. Forse la mancanza di conoscere bene il territorio o di interpellare proprio che in prima linea come i sindaci, questo è un po' una cosa che fa specie, ecco. Sì, sì, al di là degli aspetti politici, ieri leggevo quello che scriveva il nostro governatore e sono totalmente solidale con lui. Roma è molto, molto, molto lontana, non sono solo 650 chilometri da Premariacco, ma è lontana in tutti i versi, non sa come viviamo, vivono in un altro mondo, vivono in una bolla tutta loro. I provvedimenti che hanno preso arrivano da questo. Quando si parla di Movida fa sorridere, no? Il nostro comune dice parlare di Movida, dai ristoranti, ci fa sorridere. Ci hanno messo in crisi, hanno messo in ginocchio parecchie famiglie, già stamattina abbiamo visto i primi effetti, ci sono delle persone già molto tristi, siamo incrociati in banca con degli imprenditori, la cosa così non può funzionare, non può andare, è andato un colpo di grazia a tantissime persone per bene ed è assolutamente vero quello che giro ultimamente anche sui social, gli hanno fatto fare tutto, gli hanno accettato tutto. Alla fine tutti hanno fatto e alla fine adesso chiudi. C'è una mancanza anche di rispetto, ovviamente di fiducia e permettimi una pessima battuta, ma se un governo deve trovare in Fedez il suo portavoce, secondo me c'è da fare un cattivo pensiero su quello che è un governo autoritario o quantomeno credibile. Se Fedez è il tuo portavoce, al di là di Casalino, io mi permetto di dire che ci sono dei grossi problemi. Fa specie che ci venga la nostalgia dei vecchi statisti o di Andreotti o di compagnia cantante, questo dovrebbe fargli riflettere, però la poltrona in questo caso, che non è la nostra e non è la mia, quella del sindaco di Maria Acco, è importante, sono tantissimi soldi che li tengono là, il potere piace, piace molto. Dispiace, dispiace molto, io più che essere vicino avrei auspicato quello che tutti hanno terrorizzati, che i sindaci prendessero delle posizioni, no? Io non mi sento uno sceriffo, ma mi sarebbe piaciuto poter delegare o derogare quello che è la nostra movida, il nostro modo di essere. Avrei speso volentieri una nota intera a riscrivere chi apre e chi chiude nel mio comune, perché so con chi ho a che fare, con gente per bene. Qua mi collego anche alle scuole, ho avuto un incontro con loro prima di questo provvedimento ed erano quasi già preparate a quello che poteva succedere e anche qua si va molto a persona, per fortuna abbiamo delle direzioni scolastiche importanti, delle persone per bene, grazie a loro che alcune cose ancora funzionano. Dovessimo contare solo su Roma sarebbe grave anche a Premariacco. Bene, allora con queste considerazioni molto importanti, molto profonde del sindaco di Premariacco Michele Tesarda, che io ringrazio per il suo apporto oggi questa bellissima cacchierata, naturalmente io ti invito di nuovo quando avrai nuovi investimenti, sei sempre ben accetto Io vi ringrazio e come dicevo in anteprima, in apertura di questo piccolo spazio, grazie che hai dato lo spazio ai sindaci per poter dire la propria parola e serve molto in questo momento almeno comunicare con i nostri cittadini. Grazie. Bene, grazie a te e grazie a voi, alla prossima. Grazie a tutti.